Eccoci e bentornati nel mio canale, oggi riprendiamo la serie della mia rubrica consigli e tattiche su Black Ops 2 C'eramo un attimo interrotte, adesso riprendiamo e vi faccio vedere le altre mappe, quindi gli altri trucchi Siamo sulla mappa Encore, allora qui le tattiche sono molto semplici Ovviamente allora se partiamo da questa parte io vi consiglio di fare il giro, quindi passare da questa parte o passare in questo punto o passare da quest'altro E ovviamente cercate in questo caso di utilizzare i fucili d'assalto che sono i migliori nel caso in cui passaste da questa parte Se invece volete passare lì e tagliate centralmente è meglio utilizzare una mitraglietta ovviamente per vedere chi sta arrivando Una cosa molto importante di Encore è che tantissime persone passano lateralmente, quindi fanno i giri Quindi vi ritroverete nel caso in cui passaste da questa parte molte volte oggetto di sparatore Quindi state molto attenti perché su Encore le vie di fuga sono veramente tante Un punto molto buono dove dovete andare a vedere ma non ci andate a camperare perché è uno dove vanno sicuramente a mirare gli avversari E' questo, soprattutto quella finestra Quando giocate sia se nate da una parte sia se nate dall'altra in entrambi i casi utilizzate sempre in protezione Ovviamente in base a dove nate questi barili, queste scatole che sono appoggiate perché sicuramente questo è uno dei punti più caldi della mappa Secondo me i punti più importanti di questa mappa sono sicuramente questo scorrimano dove c'è ovviamente il bar E poi vi volevo far vedere l'altro punto dove si trovano sempre tantissime, io almeno ne trovo tante Tanti ovviamente passate qui sia se entrate sia in uscita quindi date un'occhiata una parte dall'altra quindi fate il giro E un altro punto dove dovete andare a vedere è sicuramente questo qui Che è, vedete, si può entrare all'interno del palco e normalmente si trovano persone ferme all'interno E questo sarà molto buono nel caso in cui ovviamente non ci trovate nessuno per fare il giro e colpirli Le tattiche su Encore sono veramente molto semplici perché? Perché la mappa è veramente molto piccola Quello che vi consiglio è non stare al centro della mappa quindi di girovagare così ma utilizzare tutti i vari punti Ma soprattutto vedete le scale per entrare e tutti i vari punti stretti per cercare di non rimanere esterni Come in questo caso non passate laterali ma cercate di passare in strettoia Andate ovviamente a vedere chi è in copertura quindi utilizzate tutte le coperture che trovate Perché su Encore sono veramente tante quindi utilizzate l'armelio per non rimanere al centro della mappa Così ovviamente oggetto disparatore degli avversari Quindi questi erano i miei consigli e le mie tattiche da utilizzare sulla mappa Encore E ci vediamo con un prossimo video